Musica Bella a tutti ragazzi bentornati in questo episodio di Minecraft Minigame Oggi siamo qui io e Royolos Ciao Siamo qui per una bellissima Bad Wars Di quelle chiaramente inventate da me perchè io gioco su Playstation 4 Non posso registrare su PC anche se avrei Minecraft Premium per PC Ma vabbè Le costruisco io e le gioco per voi Comunque Intanto lui cade guardate Vabbè comunque ci rivecchiamo quando siamo pronti per la partita Veramente veramente Vaffanculo Allora noi ci siamo subito capiti Adesso faccio la casa come ho fatto ieri Perché sai Devo fare il survival capite Cioè voi non capite È bello fare il survival No pausa Aspetta un attimo A posto Cioè aspetta un attimo e prende i blocchi Caccia frecce poi Allora Iniziamo di giubbitire Dai Annacciandone Annacciandone Cazzo Do ci siamo capiti Do ci siamo capiti Ok Dai Mi lasci piazzare i blocchi Su Ma neanche Come Oh Perché devo venire io Potete non urlare per l'amor di Dio Eh no invece devo non urlare Guarda che c'è Sopritori abusivi che urlano Ah sono abusivi perché non hanno pagato Qualcosa Allora Mi devi lasciare piazzare sto blocco Mi devi lasciare piazzare il blocco Non ci siamo capiti Mi devi lasciare piazzare il blocco Senti Basta Dai c'è piazzare sto blocco Cazzo Oh Adesso possiamo poter Madonna Madonna che cazzo Boh Madonna mi rientro l'inventario di blocchi Ma Tornami Ma Tornami Madornami Così 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 Cioè i miei blocchi Tiri Ma dai Ma come cazzo Oh Ti ho beccato Ti ho beccato Regà quando lo becco si sente Tu No merda Perché sto blocco davanti a me Ecco così si sente Fatti lo becca Ouch 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 Quattro tiri di fila Cazzo C'avrà mezzo cuore C'avrà Avrà mezzo cuore Ancora Dai ouch 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 Eh però che fa Quanti cuori hai 3 Mi scusi Sono già passati i 15 minuti Ma te lo faccio notare Merda L'ha visto Quanti cuori hai Non si può sapere Quattro adesso Ma guarda che li recupero Basta che cazzo però Oh ma c'è un lavoro Non si riesce Non si riesce a bussare Ouch Ouch Baby Ouch Ecco In modo sono i copi Oh che cazzo Senti Ma si può guidare Qua Anno Così così Con te No 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 Oh Oddio 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 Mezzo cuore Oddio OUCH! Pezzo di merda no! Oh! Ah merda! No! OUCH! OUCH! Non ti colpisce! Io ti sono vicino ma non ti colpisce! Sì! 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 Non c'ho pagato! Non c'ho pagato! Ciao non c'ho pagato! Dai! Dai! Hai! Dai dai dai! Corri! Son pagato! L'ho f messo della partita! OUCH! Dissutto alletto! Di sotto ho letto la svolta della partita La svolta della partita E adesso è sfida pura All'arco proprio Un'altra sfida lunga Due anni solo che lui Se finisce il cibo non ha più cibo Questo è da dire Ok Adesso sarà un'altra sfida di questo tipo Lunga di Dai beccato Ouch 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 Oh Io non l'ho distrutto Oh l'ho distrutto l'altra cosa Non te ne andate Oh 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 Vai la trapolinea Poi Ja Ja Non si viva Non si viva Non si viva Oh Non si viva Non si No si Oh 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 E quindi ho vinto Il Bed Wars Ho vinto io Ho vinto con una kill finale Fantastica Ora facciamo Che è che è Che è sceso No Sono caduta anch'io Ok ragazzi Per questo episodio credo che può anche essere tutto Io vi ringrazio per la visione Vi ricordo di lasciare un like o commento Iscrivervi al canale Social del canale in descrizione Cioè veramente guarda Madonna mia Ho vinto io con una kill finale epica Comunque la partita è stata Difficilissima nel complesso Perché lui mi ha tenuto bene con l'arco E vabbè Comunque un saluto da Royolos Ciao E noi ci becchiamo al prossimo video Ciao a tutti